Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui per discutere insieme, grazie per il feedback che mandate rispetto al DDL Pillonna. Oggi mi concentro sull'articolo 12 e l'articolo 13. Trovate sulla pagina www.unaiutopossibile.com i video fino ad ora fatti che sono assolutamente in ordine cronologico rispetto a susseguirsi degli articoli. Oggi abbiamo l'articolo 12 e 13 e devo provare a essere il meno logorroica possibile e a darvi degli elementi sui quali veramente ragionare perché anche in questi due articoli come l'11 contengono dal mio punto di vista molte inesattezze. L'articolo 12 ha una parte sul tipo di affido, se non è condiviso, esclusivo e perché. Mi vorrei concentrare sul secondo pezzo. Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori, dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. Wow! Cioè, da oggi, a meno che, come sempre, non vengono specificate le cose, quindi c'è il libero arbitrio e la possibilità di dire che delle cose sono scontate senza che vengono scritte, ma abbiamo speso così tante parole per ripetere 200 volte dei concetti che, allora, qui io pretendo che vengano ben esplicitati. Quindi, io adesso divento l'affidatario della mia vicina di casa, senza aver fatto una valutazione, senza aver verificato che ci siano dei pregiudizi nella mia famiglia, senza aver verificato che i miei figli siano pronti a avere degli altri bambini in affido, potrei andare avanti all'infinito. Questo toglie assolutamente mandato ai centri specializzati che si occupano di affido, ai servizi sociali, alla formazione lunga e faticosa delle famiglie affidatarie, al fatto che più o meno tutti i comuni danno un contributo alle famiglie affidatarie, quindi qua invece si parla di puro spirito di volontarietà. credo che sia all'apertura di una abnormità mostruosa. Questo articolo necessita di spiegazioni precise, non solo per i servizi del chi che cosa andranno a fare, se andranno a farlo, ma rispetto a tutte le famiglie affidatarie che fino ad oggi stanno lavorando su un progetto di affido e sul senso dell'affido. A tal fine vi era mandata copia del provvedimento, al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore, alla bigenitorialità, quindi tu non vivi nel tuo sistema familiare, vivi in una casa famiglia o preferibilmente, come si dice qua, in un'altra famiglia, perché sono due istituti diversi, e io famiglia affidataria devo garantire a te di vedere il bambino, la tua mamma e il tuo papà. Lo faccio io? Cioè non c'è più quindi una regolamentazione, non c'è più quindi un modo in cui, un luogo. Quindi io mi prendo in carico un bambino e devo gestire questo bambino senza una tutela mia di famiglia, prima di tutto e magari dei bambini che vivono a me, perché devo garantire a questo bambino la bigenitorialità. Quindi mi devo assumere io la responsabilità di portarlo sotto casa della mamma o del papà e sentirmi dire delle cose, o magari che questo bambino non mi venga poi più restituito, perché la mamma o il papà decidono di tenerlo presso di sé a cena, avevamo detto che doveva tornare a cena e quindi mi espongono ad una conflittualità, alla presenza del bambino. Quindi come vedete questo articolo è veramente scritto coi piedi, perché finisce che deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore. Chi lo fa? Quindi il giudice deve dare un mandato ai servizi perché lavorino e quindi forse non ha senso specificare bene tutto l'articolo, perché il bambino deve ovviamente ritornare nella sua famiglia non appena possibile. Articolo 13. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, dei tempi di frequentazione con la prole, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. Allora, questo è come dire aprire la porta all'infinito, cioè che allo 0,18 lo sappiamo tuttora vige la possibilità tramite stanze di chiedere modifiche, ma a differenza di quanto abbiamo adesso, se c'è l'obbligo della mediazione e la mediazione presuppone che sia un luogo con un terzo neutrale, il mediatore, che insegni e favorisca la comunicazione tra genitori, perché imparino dei nuovi modi per comunicarsi e dirsi le cose. C'è bisogno di ritornare davanti quindi a un genitore se la mediazione alla quale tu giudice mi hai inviato obbligatoriamente, ritorniamo agli articoli sopra, quindi 1 e 7, devo tornare di nuovo a chiederlo al giudice. Non è necessario che io mi muova, non è sufficiente scusate che io mi muova con il padre o la madre di mio figlio per ricorrere ad un mediatore, possibilmente quello di prima se il percorso ha funzionato, per farmi aiutare a porre delle modifiche, ma prese al di là del contesto giuridico. Allora dov'è la desurisdizionalizzazione di cui si parla già nelle brevesse? Io credo che qui c'è qualcosa che non funziona, perché dice poi il giudice nei casi di conflittualità tra le parti invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione contivisa delle controversie. Quindi perché deve essere il giudice? Quindi che senso ha che ci sia sempre il papà che bacchetti? Dov'è la capacità di cambiamento laddove io sono già stata da un mediatore? Allora ci chiediamo se la mediazione è proprio il metodo giusto di default a cui inviare tutti? Perché ok, qualora le parti accettino, dice che cosa succede. Sentite cosa dice. In caso di rifiuto di fallimento della mediazione, il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alla parte, mi sembra un romanzo, l'anonima di un coordinatore genitoriale con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale e nell'interesse dei figli minori. Allora, partendo che io conosco benissimo cos'è la mediazione familiare e che cos'è la coordinazione genitoriale e quindi parlo da professionista che conosce entrambi due metodi, perché sono due metodi di risoluzione alternativa delle controversie. La mediazione non va bene per chi affronta la coordinazione e la coordinazione non va bene per chi affronta la mediazione. Non sono la mediazione la base dell'iceberg, sono due cose completamente diverse. È come dire che chi va dallo psicologo va dallo psichiatra. Non è questo il nesso. Ci potrebbe essere una integrazione di due sistemi, in questo caso di due professioni, ma dire che io parto dalla mediazione per forza sempre e comunque, se la mediazione fallisce, cornuti e mazziati, perché ricordiamo la mediazione è obbligatoria, la mediazione te la paghi, genitore. No, pagati anche un coordinatore genitoriale. Quindi forse non è opportuno che si ragioni su chi indichi aiuti al giudice a dire se questi genitori sono da mediazione o da coordinazione. Qual è lo stadio del conflitto? Siamo in conflittualità o in alta conflittualità? Questi genitori hanno le competenze di poter lavorare e decidere insieme su tutti gli argomenti che riguardano il bambino, compreso affidamento, collocazione e regolamentazione, perché in questo caso sono da mediazione laddove c'è una conflittualità. Ma se c'è alta conflittualità e c'è bisogno di un giudice che prima definisca regolamentazione, collocamento e frequentazioni, allora è importante che si passi subito al coordinamento perché ricordiamoci che i fallimenti poi hanno delle ricadute su tutto il sistema familiare e in primi su questi bambini che sono al centro del conflitto tra due adulti. Quindi è assolutamente insensato questo passaggio, non ha nessun, come dire, da un punto di vista procedurale e di senso, nessun appiglio metodologico, logico, quindi che non ha, come dire, possibilità di riuscite. Cioè è come se stessimo andando a tentoni e vediamo qual è il fallimento minore. Nella parte ultima vengono dette quali sono le modalità con le quali e come può lavorare un coordinatore genitoriale. Io su questo lascio all'AICOGE, che è l'Associazione Italiana di Coordinatori Genitoriali, della quale io faccio parte. Trovate a questo sito appunto AICOGE tutte le informazioni per dare poi delle specifiche ulteriori su come è opportuno invece che la coordinazione si svolga. Grazie per avermi seguito, sono Sabrina Ritorto e trovate le informazioni sulla mia pagina. A presto!